Intanto l'arcivescovo di Crotone, Monsignor Graziani, ha nominato il nuovo parroco di Isola Capo Rizzuto, Don Gianni Zamperini, che sarà amministratore parrocchiale della chiesa Santa Maria Assunta o Ad Nives. E la misericordia di Crotone è stata commissariata. È stata commissariata la misericordia di Isola Capo Rizzuto, dopo il fermo di Don Edoardo Scordio e Leonardo Sacco, correttore e governatore dell'associazione. Lo ha annunciato questa mattina il consigliere nazionale della Confederazione delle Misericordie d'Italia, Alberto Corsinovi. Commissario, è stato nominato Jonathan Fatichenti, funzionario responsabile dell'area di emergenza nazionale delle misericordie. È la prima volta che viene commissariata una fraternita di misericordia per fatti così gravi. La Confederazione, ha detto Corsinovi incontrando i giornalisti, aveva chiesto agli organi di controllo istituzionali verifiche sui sospetti su alcune aziende coinvolte nella gestione e non era emerso alcun rilievo. Tutti i servizi per la popolazione, ha detto Fatichenti, continueranno e anche Alcara, dove opera una ATI con capofila del Consorzio Opere di Misericordie, e la cui gestione da ottobre 2016 non è oggetto di indagine. Fatichenti è stato nominato anche amministratore unico della Misericr, società partecipata al 100% dalla misericordia di Isola Capo Rizzuto, che gestisce tra l'altro il cinema, il centro sportivo e l'ambulatorio. Grazie agli amministratori giudiziari nominati alla DDA, la Misericordia potrà anche utilizzare le ambulanze. Quello che è successo, ha detto Corsinovi, è un fatto gravissimo. Abbiamo piena fiducia nell'autorità giudiziaria, che speriamo faccia chiarezza più presto. La situazione ci preoccupa. Oggi, intanto, Alcara è arrivata la vicepresidente del Consorzio Opere di Misericordia, Viviana Viviani, che sta verificando, anche con la prefettura, la situazione all'interno del centro. Grazie a tutti.